Ma ancora mi chiedo, cosa hai fatto per farmi innamorare così di te? E tu allora? Mi ricordo ancora la prima volta che ti vedi nel giardino di casa. Io ero appena tornato da un viaggio. Già, e mi trattasti molto male. Hai ragione. Ma poi sono molto cambiato, o sbaglio? Sbaglio. Luisa Antonio, ma al principio, che cosa volevi da me? Volevi forse prendermi in giro? Penso di sì. Ma dopo, quando ti conoghi meglio, cominciai a volerti bene. Tu eri innocente e tanto piccola. E così, quasi senza accorgermene, mi innamorai di te. E tu sei stato il primo uomo che mi ha parlato d'amore. Che mi ha fatto sentire donna. Il primo sei stato tu. Mariana, voglio che lo decidiamo insieme, quando ci sposiamo. Decidi, lupo. Allora, tra un mese? Ma non è un po' troppo presto? L'estero... No, no. Non parlare più di lei. Noi ci amiamo. E ci desideriamo. Perché aspettare ancora? Voglio averti con me. Giorno e notte. Noi due dobbiamo appartenerci per sempre. Anche io voglio. Forse chiedo troppo. No. Andiamo da un'altra parte. E dove? Voglio stare più solo con te. Sono i giorni di una vita che busquesce una parola. Ti trascini dentro a casa mentre fuori il mondo volo. Che non riesci neanche a piangere. Ora il sogno se ne è andato.